Balaustre danneggiate tra i gradini della scalinata Agostino Lopiano e ciò che resta di un incidente autonomo avvenuto domenica scorsa. Secondo la testimonianza di un cittadino, sembrerebbe che una coppia di giovani ragazzi abbia urtato con la loro vettura parte della balaustra, che si trova in corrispondenza della gradinata. Adesso, infatti, ciò che resta delle balaustre di gesso si trova tra i gradini e sul marciapiede, ostacoli che ne rendono poco sicura la praticabilità. Un patrimonio storico e architettonico della città danneggiato e non ancora messo in sicurezza. Sono passati due giorni, infatti, e nessuna transenne è stata posta in cima alla gradinata per segnalare il pericolo. Sul marciapiede c'è un grande pezzo di gesso, un ulteriore ostacolo per i pedoni. Un bene architettonico deturpato non solo da un incidente autonomo, ma come è possibile vedere dalle immagini le mura che separano una rampa ed un'altra sono quasi del tutto imbrattate da scritte. La gradinata, intitolata al sindacalista nisseno Agostino Lopiano, deputato del Regno d'Italia, sembrerebbe dunque non avere pace. Le scritte sui muri, i resti delle balaustre divelte, le cartacce e le immondizie ai lati dei gradini, di certo non rendono giustizia ad un angolo di città, punto di congiunzione tra la via Messina e Maddalena Calafato, che, nonostante la recente ristrutturazione, sembrerebbe non essere preservata da chi di dovere dovrebbe occuparsi della manutenzione dei beni architettonici della città. Se da un lato le dinamiche dell'incidente restano ancora poco chiare e la non curanza dei cittadini nel rispettare un bene comune e ben manifesta tra le mura del monumento, dall'altro i cittadini aspettano ancora un intervento di messa in sicurezza, che se di certo non possa restituire loro, almeno fin da subito, l'antico splendore della gradinata, dall'altro possa consentire loro di salire e scenderne in tutta sicurezza le scale.